Nel giorno della festa del patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, è stata la città di Alatria ad ospitare le celebrazioni e la fanfara della Polizia. Arte, cultura e tradizione hanno veicolato il messaggio religioso e di valori di giustizia e di legalità, così come ribadito anche dal Vescovo Lorenzo Loppa. Tutti quanti abbiamo un angelo, è vero, questa è la dottrina degli angeli custodi a livello di persone, ma tutti quanti siamo un angelo per gli altri e dobbiamo essere un angelo, custodire i nostri fratelli e sorelle. Quindi in un certo senso ci sono gli angeli strettamente detti e gli angeli umani che siamo noi. Presenti alla celebrazione che si è tenuta in Santa Maria Maggiore, le più alte cariche istituzionali del territorio, nonché i protagonisti della giornata. Oggi festeggiamo il patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, in questa splendida città di Alatria, con questa splendida cornice di pubblico. Abbiamo ascoltato le note musicali della fanfara della Polizia di Stato, per noi il motto è esserci sempre, noi oggi ci siamo qui ad Alatria, ma siamo in tutta la provincia impegnati a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica insieme a tutte le altre forze dell'ordine. Gran bella giornata in questa piazza splendida che sicuramente è uno dei salotti più belli di tutta la provincia di Frosinone. Con il sole è una grande voglia di esserci da parte di tutti i giovani, di tutti i bambini vicino alla Polizia di Stato. Con il padrone San Michele oggi celebriamo questa occasione che è importante, è importante per la cittadinanza, importante per dare un senso di appartenenza a tutti i poliziotti, è importante per noi istituzioni che tutti insieme riusciamo a essere vicini alle forze dell'ordine, ad apprezzare il loro lavoro e a dire alla Polizia di Stato continuate così perché siete un punto di riferimento per tutti. Grazie ancora per il lavoro che fate a tutti i poliziotti. Grazie.